Buongiorno, buongiorno, eccoci qua, ci troviamo comodamente sulle nostre sedie, sentiamo le spalle che si rilassano mentre aspettiamo gli altri che ci trovano sulla registrazione in diretta, ci troviamo un secondo a sentire com'è tutto il corpo. We're just going to start to feel how our body is this morning. Dedichiamo questa sessione a noi stessi, nel senso che è un gesto che facciamo per noi, per piacere, non per dovere. So, let's dedicate this session to ourselves today. So, it's something we're doing for ourselves, from pleasure and not through duty. And really, you know, if we want to serve other people, we really need to look after ourselves first. Se vogliamo aiutare gli altri, dobbiamo prima di tutto centrarci e rinforzare e centrarci noi stessi. Se no, non siamo un sostegno, un bastone forte per gli altri. Otherwise, we're not really like a support for other people. Anyway, enough of this. Allora, basta andare alla ciancia così. Iniziamo con le mani così. Let's start throwing our hands together. So, we do a lot of very interesting practices in our sessions and if you go back and look at them, we really did a lot of stuff. But like the really deep work, we need to do this together, you know? And you need time to dedicate to it as well. But this is already amazing! It's already amazing! It's a bit of wind today. It's a bit of wind today. Spero che il microfono non fa troppi casino. Ok. Let's start with our shoulders. Mi stavo con le spalle. Allora, io ogni tanto bevo il yogi tè, no? Il yogi tè su queste buste hanno dei messaggi, a volte bellissimi. Ehm... Ieri ho letto questo messaggio che diceva... Ehm... Se vuoi... Pace nella mente, bisogna imparare a rilassarsi completamente. E questo mi ha colpito molto, quindi forse può essere il tema di oggi. Ehm... So, you know, I drink yogi tè, and change direction. And yesterday we had a message, and it was along the lines of, If you want peace of mind, then relax completely. You need complete relaxation. So, this... You know, it's like our body-minds are connected. So, when the body is really relaxed, which doesn't mean like this. It means... Aha... Then the mind, and there is peace and clarity in the mind. Quando il corpo è rilassato, veramente, allora i pensieri, la mente si chiarisce. Quindi questa cerchiamo di farlo oggi senza fare un rilassamento, diciamo, vero e proprio schieraterra. Però di sentire che la struttura sale e tutto il resto del corpo invece pende tutto attorno. Ehm... E questa... Ah, senti nella spalla questa può rilassarsi di più. E qua... Si rilassa di più. Quindi è un sentire, è un vedere, è un monitorare. Ehm... Ehm... So, um... So, yeah, la struttura goes up, and the rest of our body just relaxes down, e just, just feel how the shoulders, can just ease off a little bit, ease down a little bit. And just realise how, like, tense we are. but we can just just gently suggest ourselves okay relax relax so relaxing isn't like this you know it's it's being very present and full of energy but the same time the structure you know not the structure the the muscles they are just if we're not using them they're not activated se non usiamo i muscoli non sono attivati adesso facciamo tutta la pratica per vedere questa questa cosa qui meglio okay so let's just relax our hand a moment okay so if I my hands they're relaxed now they're not relaxed relaxed intenzione rilassati intenzione che sono i pugni rilassati intenzione tac tac but are they really relaxed yeah rilassati rilassati ok facciamo questa spalla una spalla just gonna work with the shoulder so not gonna do anything like violent but let's just lift up and relax it down and relax it down and relax it down relax it down okay the other shoulder up and relax it down so it's important to do two things here fill ourselves with energy entusiasmo and like yeah this sort of energy and at the same time the rest of the body is relaxed seems like a paradox but it's not quindi facciamo due cose nello stesso tempo qua uno ci riempiamo con una bella energia di entusiasmo di vigore e di se alla vita così ma allo stesso tempo la muscolatura esterna e quanto possibile rilassata e questa cerchiamo di capire che significa questo perché non è dobbiamo creare un altro intendimento su questo perché il rilassamento nello yoga si intende peraltro che rilassiamoci come distendere la mente no rilassa vorrei che la sentiamo bene nel corpo so really i want us to really feel this rilassation in the whole body so ok we're just gonna do some bit more let's do this in movement open our legs wide apriamo le gambe facciamo questo movimento e a volte prima di poter rilassare un muscolo bisogna allungarlo accorciarlo per portare un po di consapevolezza ma anche sì di renderlo sensibile alla zona così la capiamo e sotto un po di questo è un po di consapevolezza ma anche così di rilassare un po di consapevolezza ma anche so to be able to relax the muscles we really need to bring awareness in there and also to work the area the lengthen so this side is working this side is working because i'm supporting myself but for example my feet they can be more relaxed and also the legs questo braccio qua sta lavorando ma anche quest'altra che mi sta sostenendo questa mano può essere rilassato i piedi possono essere rilassati l'espirazione aiuta molto a rilassare quindi inspirare espirare sentire come dire un qualcosa che di tensione si è bassa so our out breath helps us to lower tensione and relax so when we breathe in when we breathe out we just feel like we're letting go of something so the other side and then we need to be quite honest with ourselves like what is it that we're worried about dobbiamo essere un po onesti e franchi con noi stessi che cos'è che ci preoccupa in questo momento scrivere 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 capire le conseguenze capire se c'è qualcosa che posso fare so working out the consequences working se c'è qualcosa che posso fare so se c'è qualcosa che posso fare so ok spero che ci sia dico i speaker spero che non abbia assordito con una ok questo con le spalle un po' avanti zack 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 ok wonderful hands behind the head mani dietro la testa equlo torsioni and sideways ok ora andiamo fino a qui so we're just going to curve forwards and we're just going to do it one vertebra at a time so i'll show on the side so i'm going to just go head down and i feel it pulling in the back here the center it tira dietro fino a tipo qui due respiri e torno su e la prossima volta vado un po' più giù so i'm going to go down again i'm going to go a little bit further down maybe and come back up again e tornare su e di nuovo giù e di nuovo su e più giù e tornare su e tornare su andare giù e tornare su e andare giù andare tutto giù adesso quanto è possibile quanto è possibile se preferiamo mettiamo le mani sulle ginocchia if not hands on a feet mettiamo le mani sui piedi altrimenti se no stiamo qua così sentire la testa che si rilassa le mani tutta tutta la schiera dietro che si apre ok piano su piano ma in carico girare la testa that's all right we get a little tiny bit dizzy here take easy a second calma profonda so still you know there's lots of tension locked into the body that we want to slowly get to so c'è molta tensione rinchiusa nel corpo no? in questa struttura qua e dobbiamo piano piano cercare di aiutarlo a rilassare so we have to very slowly coax our body into relaxing ok cross our legs over incrociamo le gambe cerchi i piedi and 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 la caviglia, bisogna sproietarlo su tutto il resto del corpo, quindi questo sentimento nel nostro piede, ci vogliamo di lasciare il sentimento e la rilassazione per essere in tutto il corpo, ci siamo arrivati, quindi non mi muovo il piede, non mi muovo il piede, cioè non sono io che mi muovo il piede, il piede si muove, ma perché mi muovo la gamba. Lasciare, 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 lasciare. Sentire, magari è molto delicata le sensazioni che abbiamo sviluppato, svegliato nella caviglia, però cerchiamo di sentirlo di fondo nel tutto il corpo, magari è un sentimento piccolo, questo sentimento di rilassazione nei nostri piedi, ma anche se è un sentimento piccolo, questo sentimento piccolo, cerchiamo di portarlo nel resto del corpo, questo è come aprendiamo. molto rilassati, non dobbiamo andare in nessuna parte, non stiamo facendo una palestra, anche se i benefici e il movimento ci sono, ma molto dolci. quindi stiamo facendo molto rilassati, molto rilassati. Ok, l'altra forma, cambiare la direzione. Come, molto rilassati. Quando la gamba è rilassata, pesa un quintalio. quando la gamba è davvero rilassata, è davvero abbastanza pesante. È davvero pesante. Ok. Ok. Facciamo un po' di sospiri che aiutano molto anche a rilassare, stando dritti non ci accorgiamo. Quindi, abbiamo un po' di sospiri che è molto più spiatta, in quanto ci accorgiamo. Ah. Ah. Eguop. Eguop. Ah. Eguop. Ah. Oggi. Quindi, sono iniziare a lavorare. Eguop. È iniziare a lavorare. Iniziamo a funzionare ora, iniziamo a sentirci più nel corpo, più energetizzati, più rilassati. Ok. Relaxed, relaxed, relaxed. Minimum effort for maximum benefits. Sforzo minimo per beneficio massimo. Cambio direzione. Rilassati, rilassati, rilassati. So really, really smooth and relaxed. Smilino also at the body. Ok. Sentire come tutto il corpo è già, siamo già più in quest'estate di quiete. Ok. So feeling how the body is already in this actual calm state. Ok. Ci sono persone che pensano di essere annoiati quando stanno in uno stato tranquilli e si riempiono la giornata di fare cose. Però quando siamo rilassati, sentiamo questa energia espansa, non siamo annoiati perché siamo appagati, no? Vabbè, questo è dove vogliamo arrivare. Arrivare. Incrociare il piede sopra e rilassare un po' giù qua. Qui dietro è molto teso e bisogna rilassarlo. Mh. 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 Facciamo questo suono qua. Mh. 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 L'altra lezione. Mh. Mh. Mandurla Ciao Ok, very gently, put our foot down. Come a tiny bit more forward on the chair, veniamo un pochettino più avanti sulla sedia, non troppo, piedi più dritti, adesso è inspirare su e espirare giù più rilassati, quindi inspirare su, so we're going to breathe in, up, breathe out down, relax the head. Ciao Mandurla, look she's really relaxed, look how relaxed Mandurla is, hey Mandurla, ciao Mandurla, go tight, breathe in up, breathe out down, breathe in up, breathe out down. Breathe in up, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, and out, and stay sitting up. E rimaniamo dritti. Torsione. Morbidi, morbidi suck. At that point I'm really soft, so very soft, letting go. Lascia andare tutto quello che non serve Piano tornare l'altro lato Piano tornare 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 lato Piano Piano tornare lato facciamo questo gesto molto semplice, con le mani a coppa così, questa è un'offerta quindi, questo è un gesto molto semplice, è un gesto di offrire, di dare alla vita, di sentirti grati, tutto quello che abbiamo, grazie a tutti i amici, grazie per tutto che abbiamo, Ora ci diamo tre om in questa posizione, so let's recite, chant three om in this position. Om. 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 Sle Sabbath with our hearts together and our hearts together with that. We come on the moving accordion. Grazie. Come vi sentite? How do you feel? Full of energy in relaxed. Pieni di energie e rilassati. Particolari. Sentirsi pieni di energie e rilassati. Ma è così. So, have an amazing week. Passate in una settimana eccezionale. Sentire il corpo oggi molto. Appena si stende, rilasserlo. So, really listening to the body today. Whenever you find something that's tense, I think this is a very important lesson we have today. And I'm very happy to do it together. So, please write in the comments like, Hello, good morning. I feel wonderful. Mi sento rilassato. Bene. So, have an amazing day. And, uh, see you next week. Ciao.